ciao oggi vorrei spiegarvi come fare il ducking il ducking è una tecnica usata soprattutto in radio e televisione per esempio per esempio quando i dj parlano la musica automaticamente si abbassa quando smettono di parlare la musica automaticamente ritorna al volume originario per fare questo si usa un plugin legacy che è nascosto normalmente in logic che dà ottimi risultati con registrazioni preesistenti non funziona però in real time ad ogni modo diamoci un'occhiata che è molto interessante questa è una canzone che ho caricato per sperimentare col ducking per fare modo che funzioni dobbiamo mandare ogni traccia che abbiamo in logic a un ausiliario quindi in questo caso io manderò la traccia invece che lo stereo auto lo manderò ad esempio il bus 10 che è il mio ausiliario dove io metto il ducker se io vado a vedere qua negli audio fx non troverò il ducker che tra l'altro è caricabile soltanto negli ausiliari i legacy fx li trovo cliccando su audio fx tenendo premuto il tasto option ecco che troverò qua i legacy e vedete che c'è molta roba c'è ad esempio il bus amp sembrava sparito il group shifter il platinum verb il silver compressor lo speech enhancer ma non c'è comunque il ducker il ducker lo troviamo o nella traccia stereo out tenendo premuto option andando su legacy ed ecco che c'è il ducker oppure come vi dicevo nei miei ausiliari in questo caso il bus 10 tenendo premuto option legacy ed ecco il mio ducker che è un plugin molto semplice abilito subito la funzione ducking e vado a cercare una voce adesso non voglio parlare io vado a prendermi una voce che facciamo finta sia il dj quindi andiamo a cercarci una voce vediamo un po cos'è che possiamo mettere qua byron mill si andrebbe bene anche lui ma andiamo a prenderci qualcosa altro che ne so tyson tyson ha sempre il suo perché questo mi sembra proprio il classico dj che fa il piccio in radio lo mettiamo qua e cosa succede che io adesso li dico questo è il mio dj ascolta sidechain ascoltami il dj e adesso mando in play e guardate cosa succede ed ecco che il volume torna come la prima qua io potrei avere anche una claccia con un game maggiore immaginiamo che ce l'abbiamo ben più importante posso abbassarli anche il game qua in maniera più importante ecco qua spero di che vi sia utile grazie per l'ascolto e buona serata a tutti ciao grazie 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 grazie